consigli comunali dei ragazzi approvata la legge via libera a quattro ordini del giorno su caro affitti per studenti e zone franche chi è di scena la repubblica premiati i vincitori nuova edizione di consiglio news ben trovati consigli comunali dei ragazzi approvata la legge per valorizzare la partecipazione dei giovani nelle istituzioni via libera all'unanimità da parte dell'aula di palazzo lascaris al testo di legge unificato sulla promozione dei consigli comunali dei ragazzi la norma approvata racchiude le due proposte della consigliera del partito democratico monica canalis e della giunta regionale su impulso dell'assessore chiara caucino con lo stanziamento di 25 mila euro annui fino al 2025 viene istituita la giornata regionale dei consigli comunali dei ragazzi che si celebrerà il 4 dicembre e vengono previsti contributi per i progetti più innovativi e capaci di coinvolgere i ragazzi nei processi decisionali permette ai bambini della terza elementare e ai ragazzi fino alla terza media di esprimersi di avere voce in capitolo ed essere protagonisti della democrazia loro si rivolgeranno diciamo ai consigli comunali ai loro sindaci ai loro assessori ai loro consiglieri esprimendo le loro proposte le loro attitudini le loro volontà vogliamo mettere al centro il minore e fare in modo di ascoltarlo dobbiamo ascoltarli i nostri figli molto di più relatore di maggioranza matteo gagliasso lega che ha sottolineato che è un modo per avvicinare i giovani all'attività pubblica da cui spesso si sentono lontani ivano martinetti movimento 5 stelle intervenuto durante il dibattito ha auspicato che questo provvedimento possa dare nuovo impulso al forum giovani che dal 2019 è rimasto solo sulla carta e non si è mai riunito a causa della mancata redazione del regolamento da parte della giunta caro affitti per studenti via libera due ordini del giorno per cercare soluzioni al problema approvati anche altri due atti di indirizzo per istituire zone franche in val susa e val d'ossola approvati all'unanimità dall'aula due ordini del giorno sul tema degli studenti fuorisede e del caro affitti il primo a firma silvio magliano moderati riguarda le agevolazioni fiscali per chi affitta appartamenti e studenti fuorisede il secondo presentato da diego sarno partito democratico chiede di istituire un tavolo di confronto per individuare soluzioni strutturali al caro affitti per gli studenti universitari fuorisede il caro affitti per gli studenti universitari fuorisede un tema importante un dramma anche a volte sociale di accesso all'istruzione non possiamo mettere contro il diritto a una giusta rendita da parte di chi è proprietario di un immobile e il diritto agli studenti ad avere una casa ad un affitto agevolato a maggioranza sono stati approvati altri due ordini del giorno riguardanti l'istituzione di zone franche in val susa e val d'ossola presentati rispettivamente dal presidente stefano all'asia e dal capogruppo della lega alberto preioni oggi chiediamo alla giunta regionale che si attivi tramite governo per attuare quel processo per individuare il percorso migliore per dare quelle opportunità che la val di susa da tanto tempo richiede abbiamo attratto l'ordine del giorno del presidente all'asia sulla val susa e abbiamo fatto aggiungere la val d'ossola abbiamo 7 mila frontalieri però abbiamo anche un gap incredibile perché i nostri operai e manovalanza specializzata ma anche dirigenti di fatto scappano dall'Italia per andare a lavorare in svizzera dove c'è un reddito medio di 81 mila franchi e il cambio è uno a uno rispetto a quello italiano di 23 mila euro l'aula ha approvato in seconda lettura come richiesto dal capo decimo per le riforme statutarie l'introduzione nello statuto della regione della figura dei sottosegretari voto contrario al provvedimento da parte delle opposizioni che nei loro interventi hanno ribadito la non condivisione della riforma considerata un aggravio di costi non necessario e hanno espresso soddisfazione per aver ottenuto nella prima lettura di ridurre da 4 a 2 i sottosegretari la maggioranza invece rimarcato l'utilità di queste figure per migliorare l'efficienza del lavoro di giunta sottolineando che il taglio ai consulenti compensa ogni spesa i sottosegretari coadiuvano il presidente della giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti il suo mandato e nell'ambito delle sue funzioni partecipano senza diritto di voto alle sedute della giunta regionale pur non facendone parte circoncisione il partito democratico ne chiede la gratuità non si tratta di una terapia e dunque non può far parte dei livelli essenziali di assistenza questa la replica dell'assessore alla sanità inserire la circoncisione rituale nelle attività istituzionali del servizio sanitario regionale per contrastare le pratiche clandestine questa la richiesta che la consigliera monica canalis partito democratico ha rivolto all'assessore regionale alla sanità luigi icardi nell'ambito dei question time presso l'ospedale maria vittoria di torino ha precisato l'assessore è presente l'ambulatorio multidisciplinare per la circoncisione rituale che viene effettuata ai bambini che hanno compiuto tre anni di età trattandosi di un intervento non finalizzato a curare una patologia ma a soddisfare un'esigenza culturale e religiosa della famiglia non rientra nei livelli essenziali di assistenza e prevede dunque la partecipazione alla spesa sanitaria inoltre ha concluso l'assessore alla sanità presso il centro multidisciplinare per la salute sessuale dell'ospedale oftalmico è stato attivato un ambulatorio dedicato alle mutilazioni genitali femminili per favorire una cultura di contrasto alle pratiche mutilatorie delle nuove nate premiati gli studenti e le studentesse vincitori del concorso chi è di scena la repubblica rappresentare attraverso il teatro e la recitazione la propria idea di repubblica i valori fondamentali della carta costituzionale questa la finalità del concorso chi è di scena la repubblica promosso dal comitato resistenza e costituzione del consiglio regionale i cui vincitori sono stati premiati nel corso di una cerimonia che si è svolta nell'aula della camera del parlamento italiano del museo del risorgimento con questo concorso noi proviamo ad avvicinare i ragazzi alla nostra costituzione abbiamo chiesto a ogni classe di adottare un articolo della costituzione e provare a raccontarlo e raccontarlo in una maniera più divertente e interattiva possibile il teatro e le arti sceniche non sono soltanto un buon modo per arrivare a tutti ma sono anche un bel modo per esprimersi ed esprimersi in maniera divertente e istruttiva la cerimonia di premiazione è stata anticipata dalla lezione spettacolo quattro passi nella storia a cura dello storico michele d'andrea il concorso la sua seconda edizione ideato in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale in occasione della festa della repubblica del 2 giugno ha visto la partecipazione degli alunni delle scuole primarie secondarie di primo grado del piemonte è stato divertente però un po di difficoltà magari magari per studiare un po le parti però è stato molto bello la costituzione è un insieme di leggi che tutelano la popolazione ed è molto importante per la vita di tutti i giorni anche la nostra utilizzare tecniche innovative come il teatro piuttosto che la realizzazione di video è fondamentale perché per i ragazzi diventa uno stimolo e una gratificazione maggiore una prova sul campo dell'educazione civica che è una delle nostre discipline di insegnamento e alla quale teniamo molto per questa edizione è tutto prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del consiglio regionale del piemonte arrivederci